bentornati buon pomeriggio io sono costantino io sono emilio ciao questo è il morso e si parla di mele morsicate ovviamente come come sempre allora emilio tornato dal dalla gita sì diciamo di sì dai sono tornato più carico che mai più stanco che mai è stata una bella una bella esperienza devo dire non tutte le aziende offrono questa opportunità ai propri dipendenti quindi credo che tu sai ti reputi un fortunato beh sì diciamo che dopo il covid è la prima che la mia azienda fa l'organizzazione è stata impeccabile sono stati tre giorni belli intensi non abbiamo lavorato quindi è stata lo vedi vedi puro divertimento team building insomma le solite cose un po di stampo americano è stata proprio ben organizzata considerando anche che eravamo quasi 200 persone quindi diciamo quando i numeri quando i numeri crescono così tanto è sempre più difficile organizzare eventi anche banalmente hotel pranzi cene cioè diventa tutto molto molto difficile al di là del budget che insomma è stato abbastanza ingente a posteriori immagino belle storie belle storie insomma queste queste piccole mosche bianche è bello coltivarle insomma fa sempre piacere sapere che anche nel nostro mondo ci sono queste queste belle opportunità senti allora io direi credo che tutti si aspettano in questa puntata una menzione ai nuovi colori no che sono appena usciti per l'iphone 14 sì il nuovo colore mi pare che sia solo uno quello diciamo la novità del della primavera 2023 che però vederlo non mi sembra nuovissimo cioè quando ho visto la foto mi era sembrato di vedere un iphone un po più vecchio forse lo stesso colore era sugli iphone 11 adesso non ricordo bene però non mi è sembrata questa novità ecco sì 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 hai ragione c'era lo stesso colore o perlomeno una variante molto simile a questo giallo canarino c'era se ti ricordi con gli iphone quelli in policarbonato gli iphone 5c anche sì l'iphone 5c e devo dire quelle quella fu una serie molto fortunata degli iphone che avvicinò appunto al nostro al nostro ambito tante persone chissà magari apple vuole riprovare anche con questa colorazione a riavvicinare dei vecchi e nuovi utilizzatori esatto guarda se vai su internet e su google cerchi iphone 11 yellow lo trovi mi sembra anche anche l'11 allora quindi è un ripercorrere delle strade già consolidate a meno non fanno impazzire questi colori così accesi in generale io di solito il mio iphone lo compro sempre sono un po monotono però lo compro sempre in o in black oppure in colore siderale insomma colori un po meno meno accesi però questo non significa nulla tra l'altro insieme a loro sono usciti anche le nuove colorazioni per le cover quindi hanno approfittato sì sì sono uscite le colorazioni credo primaverili oramai da anni alterna prodotti di tecnologia quindi i lanci dei nuovi iphone dei nuovi mac con una una sorta di passerella permettimi il termine legata alle mode ai colori alle primavere eccetera e devo dire una formula molto fortunata per loro perché alternare appunto un trend tech con un trend di di moda è comunque sempre utile quando ci si presenta un un pubblico tra l'altro come funziona perché insomma ovviamente non sui prodotti cioè diciamo su sui prodotti principali però per esempio sui cinturini il watch o se anche sulle cover stesse a me è arrivata la primavera non so sarà il caldo mi viene voglia un po di novità e quindi alcune volte trovo delle combinazioni abbastanza sfiziose le compro carini carini nuovi iphone però già aspetto l'iphone 15 che rumors degli ultimi giorni sembra che è confermato il case in in titanio quindi non ci sarà un case in acciaio ma ci sarà un case in titanio che dovrebbe renderlo più resistente più leggero ma soprattutto anche i bordi i bezel come li chiamano in america i bordi sono molto ma molto più sottili in pratica diventerà quasi tutto schermo sono già uscite delle cover sai quelle trasparenti che si appoggiano sul display e quindi sembra essere chiaro quale sarà la direzione di questi display nessuna menzione o meglio credo che il la dynamic island sia leggermente più più piccola nulla di eclatante insomma il grosso sarà questa riduzione delle dimensioni dei bordi e quindi un real estate dello schermo più alto è una maggiorazione invece della spessore cosa di cui abbiamo già parlato e quindi non ti tedierò è una maggiorazione dello spessore sì sembra che ci sarà anche un improvement una miglioria al lidar scanner che ricordiamo per gli ascoltatori è una tecnologia che permette attraverso una proiezione laser che sta dietro insieme alle telecamere di ottenere delle informazioni di distanza rispetto a tutti gli oggetti che abbiamo attorno e questa cosa viene utilizzata per computare un ambiente 3d nello schermo queste nuove migliorie sembra sono tutte legate ai tempi di reazione di questo scanner che sarà molto più reattivo molto più veloce dunque a fare uno scanning delle degli oggetti a noi vicini e quindi una miglioria nell'efficienza generale del prodotto queste questi miglioramenti su queste cose apple sta riuscendo a portarli avanti sta investendo tanto in ricerca e sviluppo su tutte queste tecnologie legate al solito alla realtà aumentate ogni volta cerca di di essere sempre all'avanguardia su queste tecnologie che sulla carta sembrano marginali però che potenzialmente potrebbero diventare dei game changer probabilmente questa cosa qui sarà legata in qualche modo ai ai famosi visori e di realtà aumentata chissà se se questa tecnologia è in testing sugli iphone e poi verrà portata in qualche modo anche nei visori perché immagino che questi visori potrebbero trarre un grossissimo aggiovamento da uno scanner tipo il lidar scanner perché permetterebbero a loro di poter vedere dove l'utente si trova e quindi immaginate di essere immerso in questa realtà aumentata attraverso questi proiettori 3d diciamo che ti danno in tempo reale distanza di tutto quello che è attorno potrebbe essere molto utile per renderizzare in qualche modo a livello di realtà aumentata intendo questi oggetti all'interno del tuo mondo certo certo invece ragionando su fotocamere mi è venuta in mente una brutta scoperta che ho fatto durante l'off site fatto in questi giorni stavo per fare una bella fotografia di panorama e volevo fotografare l'isola in lontananza siccome diciamo il cielo era bello blu l'aria pulita molta luminosità quindi ho deciso che faccio con il 3x imposto il 3x della fotocamera e mi trovo una bella chiazza nera al centro dello schermo ho detto strano sarà qualche riflesso di luce muovo un pochino e la chiazza nera rimane lì dove è pulisco le lenti e la chiazza sarà il sensore danneggiato o qualche sporcizia all'interno della lente e quindi mi sa che dovrò farmi cambiare l'iphone o in garanzia però lo sbattimento di tutta questa storia è che io non vorrei rimanere senza iphone cioè nel senso non posso permettermi di darlo in assistenza e poi aspettare una settimana 10 giorni che arriva qualcos'altro perché non è possibile e quindi stavo valutando il servizio di sostituzione express che è incluso nell'apple care plus che ho in essere al momento però non ho mai avuto esperienza quindi la mia domanda che ti faccio è hai mai avuto esperienza di questo servizio di apple ma guarda allora no col servizio direttamente no però posso dirti che ho avuto un'esperienza pressoché analoga se ti ricordi credo due anni fa in estate a mare per una condizione che io non ho ben capito probabilmente una condizione di caldo freddo o qualcosa di simile il mio iphone 12 si è appannato cioè è entrata dell'acqua o meglio della della condensa all'interno delle telecamere risultato chiaramente tutte le fotografie su qualunque camera io mi muovevo andavano male cioè venivano appannate e tutto il resto e quindi ho chiamato su bian apple per gestire la problematica credo che all'epoca non avessi il servizio express non mi ricordo comunque sia io ho portato il telefono in apple store hanno verificato che il problema non dipendeva da me quindi sai loro hanno questa possibilità di vedere se il telefono per esempio è stato immerso in acqua o ci sono dei danneggiamenti legati a un non corretto uso del dispositivo quindi una volta verificate queste queste condizioni iniziali in essere mi hanno avviato una pratica ed io non ho dato il mio telefono quindi ho mantenuto il telefono e non appena il nuovo telefono è arrivato io sono tornato in apple store loro hanno rifatto nuovamente delle verifiche credo diciamo di routine mi hanno dato il nuovo dispositivo arrivederci e grazie ti dico non ho esperienza direttamente con l'ep con questo servizio express però comunque se se vai in apple store e spieghi la situazione credo che in qualche modo riescano a metterti a tuo agio insomma io non so se quello che hanno fatto per me è stata una condizione particolare dettata da qualche casistica che loro potevano utilizzare se è una condizione standard che viene fatta insomma parlandoci potresti provare a gestire la cosa in questo modo oppure provi a servire utilizzare il servizio express sì diciamo che mi volevo risparmiare lo spiegare la cosa perché è evidente cioè nel momento in cui provi a fare una foto c'è sta cosa nera al centro questa macchia proprio non è non è un punto è proprio come se fosse un alone no volevo evitare di spiegarlo al telefono che poi valla a capire se lo capisce invece direttamente in store in 30 secondi glielo mostri e lo risolvi lì però diciamo le problematiche sono due a volte mi è capitato di ricevere un prodotto sostitutivo perché ce l'avevano in stock all'interno del magazzino però stiamo parlando di un iphone dell'anno scorso perché io c'ho il 13 pro in una configurazione particolare in una colorazione particolare lo storage un po più grande del default quindi non ho grossi aspettative sul fatto che abbiano in magazzino dei ricondizionati disponibili per cui diciamo potrei provare come come mi hai suggerito tu di andare spiegare e però dirgli come patta e condizione che io non me ne vado di là senza un telefono quindi se vogliono lo fanno arrivare il sostitutivo e poi ci ritorno altrimenti non lo so se poi loro possono avviare direttamente la sostituzione express che fondamentalmente funziona in questo modo loro ti mandano il prodotto sostitutivo a casa e poi tu hai 10 giorni di tempo per restituire il tuo che devi fare riparare o diciamo così sostituire la condizionale è che nel momento in cui tu avvii diciamo questa pratica di riparazione loro ti addebitano sulla carta il prezzo del device come se fosse acquistato no o meglio come se fosse una sostituzione di tipo a pagamento e poi nel momento in cui se tu ovviamente entro 10 giorni non gli ritorni niente o gli ritorni un prodotto che effettivamente non aveva il difetto che tu gli hai segnalato loro si tengono la debito altrimenti te lo restituiscono ho capito quindi tu vorresti evitare qualche contenzioso banale di tipo burocratico cioè dire non trovano il problema te lo te lo debitano come problema a tuo carico insomma sì esatto banalmente succede qualcosa nelle spedizioni sai come so non saprei però adesso che me lo dici mi è tornato in mente un altro episodio più o meno analogo ahimè le cose sono andate non come te le ho raccontate per l'iphone vale a dire parlo del mio apple watch l'anno scorso sul watch serie 6 ho avuto un decadimento della batteria improvviso drastico da un giorno all'altro la batteria non reggeva più di un'ora un'ora e mezza l'ho portata all'apple store spiegando il problema il l'orologio era ancora in copertura con apple care però io ho la versione blu se ti ricordi la serie 6 la fecero in blu ah esatto la fecero in blu e io avevo peraltro la versione gps gsm non avevano niente di sostitutivo per quanto io abbia fatto dimostranze sai per la storia del dei cerchi e ho le mie fissazioni chiuderli che vale dire non c'è stato verso di poter gestire questa cosa in maniera alternativa cioè dire hanno voluto il apple watch ed è arrivata la versione sostitutiva sono passati abbondanti 10 giorni quindi abbiamo due esperienze una positiva una non negativa perché di negativa non c'è nulla però ho dovuto lasciare il apple watch sono passati 10 giorni prima che prendessi l'altro quindi credo che questa cosa qua dipenda da come dicevi tu da disponibilità di stock o cose simili quindi l'unico modo che hai se vuoi è provare oppure andare sul sicuro con questa versione della dell'express vediamo ti terma aggiornato va bene sì sì per favore grazie invece sempre tornando ad iphone comunicazione di servizio per chi è in possesso di un iphone 14 quindi con connessione satellitare per la parte comunicativa questo servizio gli ascoltatori più attenti ricorderanno non era attivo in europa progressivamente durante il 2022 e questa parte del 2023 sono stati rilasciati e questi servizi in varie parti della dell'europa e sarà disponibile adesso quindi entro fine mese anche in austria belgio italia lussemburgo e paesi bassi è un uno spread praticamente completo di tutta l'europa dove il servizio appunto non era ancora attivo o almeno era attivo soltanto in pochissimi paesi credo inghilterra e germania se non ricordo male e poi in america sentendo degli amici che ho dall'altra parte del mondo negli stati uniti sembra essere una cosa abbastanza utile quando li trovi ad esempio in parchi o in situazioni dove appunto la copertura tipica non c'è e hai necessità anche di inviare un messaggio fare fare qualcosa questo ti permette di poter essere ecco un minimo raggiungibile chiaramente in condizioni di emergenza anche con in situazioni estreme in situazioni di emergenza ovviamente non serve per andare su instagram o qualcosa del genere ecco specifichiamolo serve per chiamare aiuto principalmente hai detto benissimo è giusto specificarlo credo che non tutte le applicazioni siano disponibili almeno mi spiegavano che questa condizione particolare dove sai ti appare questo questa sorta di radar che ti permette di puntare in maniera precisa il satellite con cui collegarti hai la possibilità soltanto di aprire messaggi sì 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 di inviare messaggi di richiesta di soccorso cioè nemmeno poi non puoi mandare il messaggio a tua madre semplicemente è un path diciamo prestabilito che ti permette di comunicare con un centro di controllo per la gestione di queste cose in maniera diciamo senza la necessità di avere copertura cellulare o internet o cose del genere tra l'altro è una tecnologia abbastanza interessante leggevo che anche android la vorrebbe introdurre e copiare come sempre dico uno spera che non gli serva mai una cosa del genere perché significa che sei un po' nei guai però in alcune zone da noi può capitare guarda senza andare troppo lontano magari sei sull'Etna in un punto dove non piglia se c'è brutto tempo rimani inguaiato da qualche parte potrebbe essere un buono strumento non so poi dall'altra parte del filo se c'è qualcuno che ti ascolta però io immagino che il i tempi biblici che ci sono stati per l'attivazione dei servizi in Europa siano anche legati a chi sta dall'altra parte del filo cioè dire credo che questi tempi siano anche stati dovuti al fatto di stringere accordi e renderli operativi per gestire questa cosa almeno penso e poi sì 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 no no sì sicuramente è così tra l'altro mi ricordo che quando fu introdotta la funzionalità specificarono che il servizio era gratuito per il primo anno senza però dire nient'altro perché cosa sarebbe successo dopo un anno quindi da capire anche questo cioè per esempio in Italia sarà immagino la stessa cosa sarà gratuito per un anno ma non so se un anno a partire da ora o a partire da quando l'hanno introdotta a settembre ma poi a chi lo dovresti pagare cioè sorge il dubbio perché io non ne so nulla cioè guardando girovagando un po su twitter su mastodon eccetera sicuramente se ci fosse stato qualche debito qualcosa da pagare mi sarei imbattuto in no no esatto infatti loro hanno un po glissato sull'argomento dicendo cioè mettendo le mani avanti e dice guardate abbiamo fatto questa cosa per un anno sarà gratis poi poi vedremo nel senso non hanno detto che sarà a pagamento potrebbe essere un servizio per esempio incluso in una sorta di abbonamento con come si chiama apple one apple one sì potrebbero tranquillamente includerlo lì dentro come bonus ad esempio per chi fa la full avere quest'altra cosa oppure pagarla a parte però ad oggi io non ho mai sentito nulla appunto invece a proposito di pagare anche questa comunicazione spero interessante per chi ci ascolta ho saputo ho letto che outlook il famosissimo client di posta di di apple e scusami di microsoft è diventato gratuito quindi non c'è più bisogno di avere una licenza microsoft 360 o qualunque altro tipo cioè si può andare sull'app store scaricarlo e utilizzarlo gratuitamente con tutte le sue funzionalità quindi per intero senza nessuna limitazione all'interno del proprio mac ad esempio in sostituzione di apple mail che ahimè devo dire qualche problemino continua ad averlo io non so come tu la vedi però io non sono un sostenitore estremo di apple mail cioè io ho tanti problemi anch'io ho diversi problemi di cui alcuni proprio fastidiosi che ti scarica i messaggi ma non ti aggiornano la lista dei messaggi questi sono proprio fastidiosissimi tra l'altro sono spuntati all'inizio del ciclo di vita di ios 16 dove siamo arrivati manco mi ricordo più e non sono mai andati via cioè speravo che con la punto 1 o punto 2 questa cosa si risolvesse invece credo sia proprio una feature no ma io io ce li avevo da 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 più tempo cioè dire da 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 molto tempo che avevo problemi con non solo con ios 16 cioè c'erano tante piccole problematiche tra cui il refresh dei messaggi ma anche la ricerca che non è assolutamente efficiente cercare l'interno di apple mail non è scontato cioè a volte appaiono risultati a volte non appaiono altre volte ci mette una vita per tirarteli fuori come se stesse indicizzando sul momento ed non è non è il massimo né su mac né su ios quindi avere un prodotto terzo secondo me non sarebbe male peraltro col lavoro come tu ben sai almeno in italia microsoft teams e tutto quello che c'è dietro la suite di office è largamente utilizzata da molte aziende quindi poter avere un prodotto di questo tipo su cui spostare la propria mail non sarebbe male chissà forse ci farò un giro e magari faremo qualche riflessione a proposito tra l'altro se non sbaglio puoi anche aggiungere account terzi cioè non sei limitato ad avere roba mail no 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 assolutamente gmail icloud yahoo outlook provider terzi funziona con pop 3 map terzi insomma dovrebbe funzionare un po con tutto almeno io lo ricordo così outlook ma non so se hanno aggiunto della roba però sì provider terzi sono assolutamente supportati e tra l'altro credo che abbia anche una gestione un pochino più ampia mail calendari cioè dovrebbe essere un prodotto un pochino abbastanza completo da questo punto di vista non solo un client tipo non solo integrazione però ecco è detto bene questo era un mio dubbio perché io viceversa calendar di apple lo trovo molto utile cioè mi funziona bene non ho problematiche di qualche tipo quindi mi dispiacerebbe dovermi spostare anche da quello quindi vorrei capire l'integrazione di questi strumenti cioè dire se ti mirrora in qualche modo il tuo calendar se aggiunge le cose sul calendar e così via non non l'ho visto insomma magari mi ritaglierò un po di tempo per fare una mini review così ne parliamo sono cose da provare insomma non è semplice tra l'altro la migrazione da un prodotto all'altro per chi ha una base dati importante no no era già 15 15 anni di mail sopra non è non è non è non è proprio scoperto al mio caso credo che sia proprio l'archivio più pesante che ho al di là dei progetti xcode sono ovviamente pachitermici però diciamo dal punto di vista di dati forse la mail è quella più più ingombrante dal punto di vista di spazio occupato è uno di quelle cose che cresce infinita un po come le foto no cioè dire sono di quelle cose che crescono ma non hai un limite alla a questo prodotto né tantomeno puoi porre un argine troppo importante cioè ti puoi cancellare della spazzatura puoi archiviare qualcosa ma in generale le mail per definizione devi averli se devi averle sempre disponibili tutte altrimenti ha poco senso avere un servizio di mail un sistema di mail certo ma a proposito dei cloud eletto che il vice president di i cloud o in generale il cloud engineering di apple si licenzia e va via ad aprile no ti do questa bella notizia è un altro vice president che decide di abbandonare la nave che affonda scherzo ma 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 motivazioni esposto oppure semplicemente una un'informativa no no ho letto nulla riguardo no no non lo so le motivazioni ovviamente non non saranno rese pubbliche immagino però andrà via era in apple dal 2018 diciamo veniva da altre esperienze twitter microsoft eccetera eccetera diciamo era il vice president che si occupava di cloud e message insomma tutta la parte cloud di apple e pare che adesso verrà sostituito da un altro dipendente che già lavorava in apple da tanto tempo che è famoso per essere stato il creatore di itunes che non so cosa c'entri con le due cose vabbè sai poi in queste in queste grandi aziende emilio sai bene che la carriera è una cosa abbastanza articolata e soprattutto che non non ha dei path dei percorsi ben determinati quindi magari semplicemente una persona molto capace e che e che può prendere almeno credono reputano sia in grado di di gestire il ruolo vagante da ricoprire però la cosa diciamo secondo me il campanellino d'allarme non è tanto nel fatto che questo sia andato via perché ognuno può fare le sue scelte anche di vita chi le può giudicare però all'inizio dell'anno un altro vice president dei servizi che era tale peter stern che diciamo super faceva anche supervisore sul suo i cloud nel suo diciamo insieme ha lasciato l'azienda all'inizio dell'anno quindi questo potrebbe essere cioè di solito per esperienza personale quando incomincia una cascata a abbandonare per diciamo ruoli un po di persone nello stesso nella stessa business unit o nello stesso ambito vuol dire che c'è un certo malessere su qualcosa che che non va come dovrebbe evidentemente in apple potrebbe esserci un problema ai cloud o servizi network in generale parlo dal punto di vista del management ovviamente non di prodotto o di bag o di cose del genere però insomma il fatto che nella stessa area due manager diciamo di primo livello perché comunque stiamo parlando di vice presidenti vanno andato via nel giro di quattro mesi è abbastanza inquietante probabilmente ci sono delle delle malesseri a livello di management dietro che noi ovviamente non sappiamo e quindi un po un domino che è partito 2018 significa conti alla mano cinque anni di esperienza in apple in verità questo qui è un po il il tema del lavoro moderno 30 anni fa nella apple di 30 anni fa ma anche nella microsoft di 30 anni fa nessuno si sarebbe sognato di ricoprire dei ruoli determinanti o comunque molto importanti così senza colpo ferire e soprattutto nessuno si sarebbe sognato di andare via in un tempo così breve in un lasso di tempo così breve da un'azienda questo purtroppo o per fortuna per noi è un po il tema caldo del del job vacation che c'è in generale nel mondo dell'IT dove appunto si 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 passa da un'azienda dall'altra con una facilità davvero estrema e questo se da un lato offre tante opportunità di crescita ai singoli in verità secondo me non aiuta la crescita organica o comunque la stabilità soprattutto di una grossissima azienda come quella che è apple dove appunto c'è necessità di resilienza di stare sul pezzo sul focus non per cinque anni ma per dieci anni per quindici anni per vent'anni dove le visioni appunto sono a lungo termine non sono così a breve termine quindi questo io non so da cosa dipenda cioè dire se è un po il trend o comunque la piega che ha preso il lavoro moderno chiamiamolo 3.0 oppure se in generale appunto è legato a qualche tema particolare però questo stesso problema c'è stato in passato mi ricordo il creatore di swift che è stato per un periodo davvero limitato all'interno di apple poi è andato via ma te ne potrei citare tanti anche ingegneri hardware che hanno lavorato alla parte appunto dei microprocessori insomma in generale c'è questa moria questo va e vieni di risorse anche importanti che secondo me ahimè non fa bene alla salute di una di un colosso di un'azienda per certi versi questa cosa qui fa più male in una grande azienda altamente strutturata come quella che può essere apple piuttosto che una una startup agile che appunto ha il tempo per definizione di di potersi riaggiustare sistemare insomma è una cosa che dovrebbe far riflettere non noi ma i piani alti assolutamente sì ma io tra l'altro le mie convinzioni su tutto questo argomento su tutta questa storia cioè ormai se ci fai caso i ruoli manageriali di alto livello vengono imposti dall'alto quasi sempre e spesso sono figure esterne all'azienda cioè non hanno una cultura aziendale forte già pregressa no vanno da dicevo dobbiamo mi serve qualcuno che sia il vice president di iCloud no se vanno in giro a fare spesa vanno a vedere un po chi c'era google chi c'era da amazon fanno un'offerta più importante economica e se lo pigliano e lo piazzano lì però questo modo di fare secondo me va a snaturare un po l'identità identity del dell'azienda aziendale no perché non è una persona che è interna ad apple già da 5 10 15 anni che lentamente fa carriera e scala no e va in alto mantenendo diciamo quella cultura quel substrato no culturale che è proprio dell'azienda apple cioè se tu prendi uno di amazon quanto tecnicamente bravo possa essere però avrà nel dna la cultura aziendale di amazon ok sei rimasto lì per abbastanza tempo esatto diciamo e se tu lo prendi da lì e lo porti in apple è difficile che trasformi questa persona che hai portato in apple in un dipendente che ha la cultura che apple ha stabilito nel corso di decenni no è più probabile che lui porti dentro apple il modo di pensare di lavorare che lui aveva in amazon prima e questo secondo me peggiora di molto il l'umore del di chi poi si andrà a rapportare con questi nuovi manager di alto livello ed è il motivo per cui poi i dipendenti lasciano almeno questa nella mia esperienza le grosse ondate di licenziamento di auto licenziamenti e non quelli che ti vengono che subisci ma quelli che tu fai le dimissioni ecco chiamiamolo così le grosse ondate di dimissioni sono quasi sempre arrivate nelle aziende che ho frequentato quando venivano cambiati dei manager di alto livello no tu ti trovi bene a lavorare col tuo manager ma poi nel momento in cui ti arriva ti viene imposto dall'alto quello nuovo e non è detto che ti stia simpatico che tu sia la sua visione la sua visione il suo modo di fare il suo modo esatto esatto e quindi a quel punto te ne vai quindi non lo so io da questo punto di vista non mi piace molto l'andazzo che ha preso ti vedo un po che c'è questa moria vai e vieni di personale magari non direttamente legata al nostro mondo quindi quello della della parte it o comunque della parte software barra hardware ma anche legato alla parte manageriale pura o marketing se ricordi c'è stato un vai e vieni abbastanza importante anche di figure di spicco legate alla parte appunto di public relation di di apple lì vai e vieni è davvero quasi all'ordine del giorno quindi non lo so emilio in verità credo che dobbiamo comunque abituarci al fatto che le aziende le software house barra hardware moderne non sono quelle degli anni 70 dove appunto dietro comunque c'era una una condivisione di uno spirito di una di una filosofia di un di un evento se vuoi a parte rispetto a quella del prodotto vero e proprio cioè le persone dietro erano legate appunto da una da un filo conduttore da un'empatia che prescindeva dalla dalla particolare dal particolare momento e quindi ecco spiegato perché steve wozniak non è andato via da apple se non alla fine della sua carriera quando appunto era scontato quasi no che andasse via e stessa cosa bill gates insomma qui non il problema non è apple secondo me è un problema culturale cioè le aziende moderne e quindi la apple moderna la microsoft moderna sono basate su altri principi magari se parli con loro quello che tu hai appena detto è una cosa positiva c'è questa contaminazione di di esperienze per loro potrebbe essere una cosa positiva perché ti permette di avere dentro apple un po di amazon un po di microsoft un po di google e così via devo dirti la penso come te però non è chiaro se questo sia il modo corretto di gestire una barca così grande come quella che è apple sì diciamo che la democrazia in azienda abbastanza sottovalutata quindi i dipendenti non hanno quasi mai voci in capitolo per quando viene scelto un manager che dovrà stare sopra di loro così te lo presenta nel giorno prima da domani lui sarà il vostro nuovo capo ok piacere molto piacere sì infatti a proposito di team io ho scoperto una cosa che non sapevo sono rimasto molto interessato da questa cosa il fatto che apple da quasi da più di dieci anni ha un team segreto che lavora su una tecnologia micro led per soppiantare il fornitore di prima che c'è in questo momento c'è di e samsung e lavorano appunto ad un display di nuova tecnologia con sistemi di dynamic range altissimi bassissimi consumi resta dei neri come non mai insomma c'è tutto un modo alla apple virgolettato di pensare ai display perché ti dico questo perché appunto è apparsa da poco una notizia in cui si spiegava che neanche per quest'anno barra l'anno prossimo ci sarà questo famoso display apple all'interno di iphone o ipad quindi la dipendenza da samsung insomma non sarà ancora una volta annientata almeno per ora ecco io non sapevo nulla di di questa divisione interna non so se tu invece eri informato di questa cosa hai letto qualcosa in sapevo che ci stavano lavorando così come stanno lavorando a soppiantare i fornitori di modem terzi c'è sempre questa notizia che ogni anno dovrebbe essere l'anno in cui vengono utilizzati chipset radio di diciamo sviluppati prodotti in apple poi in realtà questa cosa non non succede mai viene sempre tutto posticipato evidentemente ci sono problematiche il display mi è chiara quale può essere la difficoltà tecnologica ok perché ci sono miliardi di componenti miliardi di variabili che entrano in gioco quindi avere un'esperienza come quella di samsung è chiaro che non è non è facilmente replicabile però immaginavo che produrre un chip di comunicazione quindi un modem fosse una cosa molto più semplice invece come dici tu sono anni che se ne parla ma davvero è così complesso farlo forse no non vorrei che ci sia di mezzo anche una questione di brevetti e patent perché su quel mondo c'è la valle di roba brevettata e quindi magari è complesso creare un prodotto che poi o meglio creare un chip o qualcosa del genere non vado a pestare i piedi a qualcuno a questo piuttosto che a quello si è probabile che sia proprio quello del pomodoro discordia nasca non tanto dall'ingegnerizzazione ma dal fatto che magari poi ti ritrovi qualcosa che va a violare uno o più patent dici questo no sì potrebbe essere una spiegazione che quindi in definitiva gli costi di meno poi andare a comprare soluzioni già già pronte da altri anche per non rischiare poi normalmente cause con tanti zeri visto il numero di iphone che vengono venduti nel mondo ogni anno non so nemmeno che cosa ci guadagnerebbe apple a crearsi il suo modem ma al di là di un'ottimizzazione di tutto dei consumi probabilmente lo integrerebbe direttamente nel stock del cpu non lo so quali possano essere i vantaggi proprio in termini numerici è una cosa di cui sento parlare spesso ma che poi alla fine non si concretizza mai ma io ricordo per chi è vecchio abbastanza che parliamo degli anni 90 ci fu un periodo in cui era possibile attraverso delle sound card per chi si ricorda nei vecchi computer negli assemblati si potevano mettere dentro delle delle schede sonore anzi era proprio necessario perché i computer base gli assemblati base dell'epoca non avevano output audio se non il bip della della scheda madre quindi si mettevano queste schede su slot di espansione e si poteva avere così un modo per suonare e ascoltare musica o registrare della musica ebbene c'erano molte di queste schede che permettevano di avere un modem a tutti gli effetti software quindi in pratica utilizzando la scheda sonora si poteva emulare via software un modem e poter quindi avere la possibilità di comunicare con le bbs o con quello che c'era all'epoca insomma non c'era neanche internet a quei tempi immagino che il problema della 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 modulazione demodulazione non sia molto diverso oggigiorno cioè dire con con i modem gsm barra 5g 4g insomma alla fine della fiera quello che c'è dietro appunto è una modulazione una demodulazione di un segnale quello che voglio dire se si poteva fare all'epoca via software su un computer degli anni 90 immagino che sia una cosa riproducibile abbastanza facilmente anche all'interno di questi super processori questi super socca 17 a 18 a 19 insomma credo sia un problema di calcolo né tantomeno un problema di tecnologia cioè dire le strade sono ben tracciate ben definite quindi mi convince tantissimo la tua affermazione di prima in cui dicevi che probabilmente il problema reale è un problema di patent di brevetti che ci sono dietro queste tecnologie che sono blindate si potrebbe essere tra l'altro applausi tecnologie blindate samsung non so se letto sta facendo la guerra d'apple al contrario nel senso che mi ha annunciato che produrrà dei suoi processori per mobile per desktop basati su arm ovviamente e che si suppone vorranno concorrere in maniera diretta uno a uno testa a testa con i processori a 17 a 18 m1 m2 m3 di di apple ma in bocca al lupo gli dico no ma si sono presi a proposito di quello che dicevi prima per fare questo giro si sono presi uno dei più grossi manager di amd se lo sono tirati dentro e gli hanno assegnato questa divisione per la gestione di questi processori quindi anche lì vedi quello che dicevi prima torna tutto quanto torna un cerchio cioè questo questa via vai di personaggi è assolutamente all'ordine del giorno non solo in apple ma anche in samsung anche in md cioè è abbastanza abbastanza difficile anche culturalmente tenere una persona all'interno di un'azienda perché ahimè la parte economica è il driver principale lo è sempre stato però forse prima negli anni 70 negli anni 80 c'era anche una forma di di empatia personale cioè quando facevi entravi a far parte di un di un team non ti importava soltanto della parte economica ma anche appunto di quello che eri di quello che era l'azienda e tutto il resto e si infatti per questo che si fanno gli off site per bravo 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 hai detto bene hai detto bene hai detto bene io ho un'altra cosa che spero ne voglio parlare perché secondo me è una di quelle cose che su cui ci spero tanto che è l'SE da 4 e 7 pollici nuovi rumors sostengono che ci sarà a brevissimo comunque entro l'anno una nuova versione dell'iPhone SE tutto display quindi no touch no touch id con dimensioni contenute quindi dovrebbe ritornare in auge il famoso mini che è stato eh tagliato fuori dalla 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 discussione e lì sì che si potrebbe ragionare senza protuberanze senza eh sì però ti dovresti accontentare di un prodotto di fascia media perché tale rimarrebbe ma sai Emilio la fascia media oramai secondo me è la nuova fascia fascia eh importante fascia alta nel senso che eh lo abbiamo visto con gli iPhone 13 l'abbiamo visto con gli iPhone 14 però insomma tutta questa potenza in realtà non è che a parte qualcosa su cui uno si abitua eh a cui è avvezzo che so il 120 fps o quello che vuoi tu però a parte queste piccole S in realtà un iPhone 14 va più che bene così come un iPhone 13 va più che bene alla fine non si usa tutta questa tecnologia almeno questo è il mio pensiero del del momento sì no certo sicuramente gli iPhone SE anche declinati come sono come sono adesso ne hai ne hai da buttare è che noi ovviamente esatto non ci accontentiamo mai e quindi vedremo quest'anno vedremo quest'anno come va vedremo io spero di mantenermi di contenermi nel nei possibili acquisti vedremo vedremo invece ti lascio con una bella notizia almeno per te per quanto abbiamo detto in passato che con iOS 16 4 sarà possibile associare il developer mod non so come si chiami eh di preciso con un account e cloud diverso da quello diciamo che utilizzi per per utilizzare il device quindi foto mail eccetera ah vedi sicuramente quelli di Apple ascolto nel nostro podcast sì sì ne sono quasi convinto ne abbiamo parlato la volta precedente quindi vedi subito pronto dopo una settimana ti fanno la match vedi 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 è utile è utile però sembra essere oramai chiaro che questa questa beta come diceva qualcuno ne parlavamo settimana l'anno scorsa eh saranno eh relegate a chi paga un abbonamento Apple developer non sarà più possibile o almeno non sarà facilmente possibile installare eh delle beta sui propri dispositivi se non si è dei developer no non è detto io io credo che questa sia la limitazione per l'early beta cioè quando fanno il WBDC quella che esce il giorno stesso ovviamente è molto richiesta da molte persone eh e loro la vogliono limitare solo per per i developer però credo che continueranno a esistere le beta pubbliche che escono diciamo di norma dopo una settimana o qualche giorno dopo le beta le beta private a parte diciamo il nuovo iOS che verrà presentato che per qualche per un mesetto un mesetto e mezzo rimarrà in beta privata eh poi diciamo quelle successive dovrebbero avere il solito ciclo beta privata beta pubblica dopo qualche giorno sì ha senso ha senso la beta pubblica d'altronde parliamoci chiaramente Emilio serve anche a loro eh nel senso capire come sta andando il prodotto prima di rilasciarlo è utile fare un test a lungo a lungo spettro che non sia limitato insomma soltanto ai developer quindi sì ha senso probabilmente le le beta pubbliche resteranno va bene Emilio io direi che è arrivato il momento da parte quello di lasciarci ovviamente perché i nostri 50 minuti li abbiamo superati abbondantemente dicevo è arrivato il momento magari settimana prossima o tra due settimane di iniziare a fare una wish list per iOS 17 cioè quali sono le cose più importanti che mancano oggi su iOS 16 e che vorremmo avere su iOS 17 che ne pensi? Ok sì tra l'altro penso che manchi appena un mesetto dall'annuncio della WWDC normalmente ad aprile già metà aprile dovremmo dovremmo esserci quindi sì mancherà un mese oggi più o meno quindi secondo me è già l'inizio della totolotteria per cosa ci sarà cosa non ci sarà io c'ho un po' di idee che di cui ti parlerò settimana prossima va bene allora faccio i compiti e poi ci risentrò va bene Emilio grazie tante buon pomeriggio ciao ciao ciao